Buongiorno, dunque ieri dicevamo che quest'anno avremmo fatto le due lettere di Pietro e la lettera di Giuda e poi io ho detto no, perché no? Certamente la lettera di Giuda è una lettera simpatica, breve, un capitolo solo e scritta in un greco elegantissimo La lettera di Giacomo, in un greco altrettanto elegantissimo dice le stesse cose della lettera di Giuda però poi ne dice anche di altre Allora ho detto se facciamo la lettera di Giacomo non occorre fare la lettera di Giuda e impariamo qualche cosa di più Ecco perché c'è stato questo cambiamento Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Tu mi hai risposto Vediamo di che morte dobbiamo morire Queste tre lettere che normalmente nella tradizione popolare sarebbero le lettere scritte da Pietro e scritte da Giacomo, apostolo Risultano invece, noi oggi lo scopriremo scavando per conto nostro Senza fare però scavi da mal di testa Bastano alcune cose da mettere in evidenza e queste cose ci diranno che queste tre lettere non sono state scritte dai personaggi ai quali sono attribuite ma sono scritte da anonimi Scopriremo anche che queste lettere si trovano, si collocano nella loro nascita in un periodo storico che noi in genere non è che conosciamo molto ma gli specialisti lo conoscono molto bene perché è il periodo in cui nasce la letteratura giovannea le tre lettere di Giovanni, il Vangelo e l'Apocalisse nascono più o meno subito dopo queste tre lettere è il periodo della fine del primo secolo e nella fine del primo secolo noi troviamo questo signore Domiziano naturalmente il clima che ha creato Domiziano è un clima piuttosto pesante per i cristiani non tanto per i decreti di Domiziano quando piuttosto per il fatto che questi decreti hanno rialimentato l'odio della plebe di tutte le varie città dell'impero contro i cristiani per cui una parte di persecuzione è dovuta al dettato imperiale e una parte invece è dettato da questa mentalità anticristiana che si era formata in precedenza vedremo ovviamente nella seconda parte della nostra conversazione quali sono le caratteristiche di questa persecuzione quella chiamiamolo da north cioè quella voluta in qualche modo dall'imperatore e quella invece da sud quella cioè che non per decreto imperiare ma per un clima assolutamente ostile si è instaurato nei confronti dei cristiani tanto che molto spesso i giudici che si trovavano in mezzo non sapevano chi ascoltare se l'imperatore o la plebaglia bene ognuno è bene che abbia la sua Bibbia perché questo mi esonera dal copiare i testi biblici dentro lo scheda seconda cosa io vi chiederei questa cortesia man mano andiamo avanti se ci sono cose che io non dico chiaramente o se ci sono cose che inquietano o se ci sono cose che vanno chiarite o se ci sono domande diciamo così derivate dall'argomento che trattiamo alzate la mano e fate subito l'intervento perché se lo si fa dopo verso la fine dell'incontro si perde quello che il clima culturale la situazione culturale che ha provocato quella domanda e quindi quella domanda diventerebbe decontestualizzata la peggior cosa per una domanda bene detto questo partiamo se voi aprite il primo capitolo della lettera di Pietro proprio il primo versetto chi non ce l'ha non si preoccupi perché ve l'ho trascritto qui sì allora se voi aprite il primo capitolo della lettera di Pietro primo versetto vedete a chi è indirizzata questa lettera e la prima cosa che noi notiamo essendo questa lettera indirizzata ai cristiani che vivono come stranieri dispersi nel ponto nella Galazia nella Cappadocia nell'Asia e nella Bitinia se noi facessimo un po' di geografia antica cosa sta dicendo il nostro amico i cristiani che si trovano in Turchia e nella parte europea della Turchia Ponto Galazia Cappadocia Asia Bitinia sono zone geografiche dell'Asia minore antica l'unico nome strano che voi trovate in tutti questi è la Galazia più o meno una regione centrale della Turchia chiamata così perché nel quarto quinto quarto secolo avanti Cristo stranamente c'è stata un'invasione dei Galli cioè dei francesi i francesi sono partiti sono arrivati lì si sono piantati e si sono amalgamati con gli altri gruppi etnici del luogo e quella regione viene chiamata Galazia per questo motivo dunque siamo in Turchia questo è il primo dato il secondo dato importante che noi ricaviamo da questa lettera la troviamo al capitolo quarto versetto dodici carissimi non meravigliatevi della persecuzione che come un incendio è scoppiata in mezzo a voi per mettervi alla prova come se vi accadesse qualcosa di strano dunque testo greco che sta sotto parla di peirasmon che di per sé vuol dire prova vuol dire tentazione questa parola voi la conoscete già perché compare nel padre nostro non ci abbandonare al peirasmon e allora comprendiamo che la parola tentazione è un po' diversa nel mondo antico rispetto al concetto che abbiamo noi per noi la tentazione è legata alla morale nel mondo antico no quando Gesù dice non ci abbandonare alla tentazione Gesù non sta facendo il moralista sta dicendo proprio questo quando noi siamo in una fase di persecuzione e la persecuzione non è necessariamente quel movimento ostile a livello puramente sociologico del cristianesimo per cui capita il militare ti porta in prigione e ti sgozza non è solo questo la persecuzione è anche qualche cosa di psicologico quando c'è un tessuto sociale che rifiuta te persona perché sei cristiano Gesù ha presente questo dato e infatti subito dopo il Padre nostro lo dirà quando qualcuno ti mette nel Peiras Monti perseguita in una città tu non stai a stare in quella città non rimanere lì io non ti chiedo di sacrificare la vita quando questa la puoi salvare semplicemente andandotene e Gesù dice andatevene da quella città quindi Gesù non chiede il martirio comunque sempre a getto continuo ci sono situazioni dalle quali tu non puoi uscire allora è ovvio che lì devi fare una scelta dunque questo Peiras Monti è qualche cosa di ben preciso e dunque il problema è questo questa lettera viene scritta durante una persecuzione perché il verbo è al passato è scoppiata dunque qualcosa di recente e questa persecuzione avviene nel ponto nella Galazia nella Cappadocia nell'Asia nella Bitinie come vedremo fra non molto le persecuzioni del primo secolo sono persecuzioni locali concentrate nella città in una città in quella vicina no? per esempio verso gli anni quaranta erode Agrippa perseguita i cristiani di lingua greca a Gerusalemme i cristiani di lingua ebraica non vengono ne manco toccati e questi cristiani di lingua greca sono costretti per salvare la pelle ad andarsene perché erode Agrippa fa fuori Giacomo vescovo di Gerusalemme lo fa buttare giù dal pinacolo del tempio sclacci e gli altri salgono su verso nord e fondano la grande comunità di Antiochia dove i nazareni per la prima volta vengono chiamati cristiani e questa comunità molto dinamica cultura greca gente che si dà da fare anche per salvare se stessa e la comunità che ospita Paolo comunità dalla quale nascono tutte le idee progressiste del cristianesimo nascente Gerusalemme non produce idee progressiste ma Antiochia si e ad Antiochia vengono composti quello che noi oggi chiamiamo il Benedictus il Magnificat il Nung Dimittis lì vengono composti questi testi liturgici e lì verrà composto anche il Vangelo di Matteo questa è la comunità perseguitata estremamente ricca a livello teologico culturale dunque noi abbiamo una persecuzione che non è locale l'altra persecuzione sarà quella di Roma fatta da Nerone poi ci sarà un'altra lo vedremo la persecuzione di Pergamo ma non c'è una persecuzione che comprende territori così vasti questa persecuzione la prima che noi abbiamo e che comprenda territori dell'impero è quella di Domiziano Domiziano muore nel 96 ed è proprio l'anno precedente la sua morte che lui emana questi decreti di persecuzione ai cristiani questo già ci sta a dire che la lettera non può essere stata scritta da Pietro perché Pietro muore durante la persecuzione neroniana e quindi la morte di Pietro va collocata tra l'incendio di Roma 64 dopo Cristo e la morte di Nerone 68 96 capite che c'è qualcosa che non funziona dunque questa lettera non l'ha scritta Pietro su questo non ci piove perché abbiamo circa 30 anni di distanza fra la morte di Pietro e la composizione di questa lettera quando dunque il biblista dice no la prima lettera di Pietro non è di Pietro certamente suscita scandalo perché dice come è scritto che è di Pietro e tu vieni a dirci che non lo è ecco adesso avete capito perché i biblisti hanno quasi sempre ragione quasi questo è un dato molto importante dato molto importante la prima lettera di Pietro dunque collocabile nell'ultimo decennio del primo secolo tra il 90 e il 100 con buona probabilità proprio nel 96 anno della morte di Domiziano ma anche anno in cui scoppia questa persecuzione questo è un dato ormai che la stragrande maggioranza dei biblisti accetta dopo sapete come in ogni famiglia c'è sempre chi fa il bastian contrario e non tenendo presente questo argomento continua a dire no è di Pietro senz'altro quando si studia il greco ellennistico si dice che i migliori scritti di greco ellennistico sono la lettera se non parliamo della letteratura biblica parliamo di tutta la letteratura ellennistica il miglior greco è quello di Giacomo e quello di Pietro ora che Pietro scrivesse in maniera così perfetta non è pensabile perché ma non perché si fanno petizioni di principio no 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 c'è una notizia inquietante quando Papia vescovo di Gerapoli muore nel 110 dopo Cristo fa una breve annotazione sul Vangelo di Marco annotazione che viene riportata da Eusebio di Cesarea Papia dice che l'autore del secondo Vangelo era l'ermeneutes di Pietro ermes mercurio è il postino degli dei e strada facendo dall'Olimpo alla terra velocemente deve tradurre il linguaggio degli dei in linguaggio umano ermeneutes non vuol dire segretario ma vuol dire traduttore simultaneo il che mi sta a dire che Pietro era ignorantello parlava solo aramaico e Marco invece era poliglotta ora uno che ha bisogno di un traduttore non può scrivere una lettera così con un greco ellennistico perfetto ma ad un renato si può pensare che come lui si avvaleva di un traduttore simultaneo per la predicazione si sia avvalso di un segretario dello stesso per scrivere la lettera no signori perché noi il Vangelo di Marco lo possediamo e tra il greco e il greco della prima lettera di Pietro c'è la stessa distanza fra un commerciante di Firenze del tredicesimo secolo e Dante Alighieri tra un professore di lettere e un sano contadino della bassa depressa del basso piave e quindi non è scritta da Marco la prima lettera di Pietro neanche con il fischio proprio perché sono due penne completamente diverse il greco del Vangelo di Marco è un greco italiota perché contiene molte parole latine traslitterate in greco quando voi leggete il Vangelo di Marco in greco voi leggete il greco che si parlava a Roma da parte della plebaglia Cicerone Cesare sì erano solo loro che parlavano latino la gente il quotidiano era greco tu andavi a comprare un boccale di vino lo ordinavi in greco e l'altro ti rispondeva in greco dove comprare un pezzo di stoffa lo chiedevi in greco e l'altro ti rispondeva in greco erano solo le classi dominanti che parlavano latino non illudiamoci la fatica che abbiamo fatto a imparare rosa rose non è una fatica proletarie è una fatica della high society noi abbiamo imparato il linguaggio dei nobili e dei borghesi bene 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 la Roma conquista l'oriente greco tra la seconda e la terza quella comunità si come è che a Roma si parlava la gente non parlava greco perché c'è un motivo molto semplice quando la feroce Roma conquista e schiavizza la Grecia la Grecia schiavizza Roma perché i maestri quelli che i patrizi compravano al mercato per istruire i propri figli erano greci e quindi i rampolli dell'alta società a cominciare dal secondo secolo avanti Cristo ricevono una cultura greca i cosiddetti poeti novelli sono influenzati da questa cultura perché loro da ragazzini sono stati istruiti alla cultura greca da questi maestri greci poi un po' alla volta voi dovete tenere presente che a Roma i barbari cosiddetti cioè gente friulani veneti triestini che ne so sono diventati schiavi di Roma solo dopo Cristo secondo terzo quarto secolo dopo Cristo non prima prima gli schiavi di Roma o erano africani di cui non sapevano un bel niente di niente in Africa non si è mai parlato greco il massimo il massimo sforzo celebrale che facevano era imparare un po' di latino e soprattutto il mondo turco che parlava greco e il mondo greco che parlava greco quindi Roma prima del cristianesimo era grecizzata e tenete presente che gli schiavi sono la parte più dinamica di Roma sono quelli che comperano vendono coltivano educano fanno le feste per gli altri cioè tutto il tessuto in movimento di Roma è fatto da questa gente non è fatto dallo schiavo che ti dice ave ma è lo schiavo che ti dice caire non è da sorridere ma le prime bestemmie contro Gesù Cristo testimoniate a Roma e sono scritte in greco e sono state trovate nelle bettole nei termopolium quindi nessun problema avrebbe senso l'ipotesi che Marco si è formato nel greco in greco ha studiato greco quindi il tanzio di Marco è fatto che tuttavia qui il suo cosciente era bassa e poi in tre anni quod gratis probatur è possibile però ce ne vuole è possibile non abbiamo niente che possa comprovare questo noi possiamo anche immaginare che il mio angelo custode Arturo sia seso giù col paracadute e abbia scritto questa lettera cioè quando un'ipotesi noi possiamo fare tutte quelle che vogliamo ma devono avere dei fondamenti le ipotesi allora possono essere prese in considerazione altrimenti sono sogni a livello storico noi con i sé e con i ma sappiamo che la storia non si fa ecco perché tenerla presente è opportuno dargli credito seconda lettera di Pietro più piccola più breve greco leggermente meno brillante della prima lettera di Pietro è una lettera posteriore alla prima perché tocca un argomento che è scottante alla fine del primo secolo e cioè la parusia la prima lettera di Pietro non tocca questo problema lo accenna appena ma non come una realtà che è imminente sta per accadere ma come una realtà futura molto lontana nella seconda lettera di Pietro invece si affronta questo problema si dice lo stesso che la parusia è lontana ma se voi fate lo sitz in leben del testo notate che la seconda lettera di Pietro sta combattendo l'idea dei destinatari della lettera idea secondo la quale la parusia sarebbe imminente proviamo a leggere siamo alla linea sessanta della seconda lettera di Pietro capitolo terzo dall'undici al sedici chi non ha la Bibbia vada alla linea sessanta della scheda dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo con una grande pirosis un petardo cosmico pufete fine della trasmissione dato che tutte queste cose dovranno finire in questo modo quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta e nelle preghiere mentre aspettate affrettate la venuta del giorno di Dio o o noi non solo aspettiamo ma anche affrettiamo qualcuno potrebbe farci fuori per questo motivo perché noi cristiani affrettiamo la fine del mondo rifletteteci padre padre nostro che sei nei cieli si è santificato il tuo nome fine della trasmissione e lo diciamo sempre il guaio è che non ci pensiamo mentre aspettate affrettate la venuta del giorno di Dio nel quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno per questo prima parlavo di un petardo cosmico noi infatti secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova nei quali abita la giustizia perciò carissimi nell'attesa di questi eventi fate di tutto perché Dio vi trovi in pace senza colpa e senza macchia e qui arriva la cannonata contro quell'idea che i cristiani si erano fatti alla fine del primo secolo e cioè che fosse imminente la parusia la magnanimità del Signore nostro cioè il fatto che Dio sia così magnanimo da non mandarti subito la fine del mondo ma di procrastinare la magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza perché per il semplice motivo che c'è più tempo per convertirsi se la fine del mondo arrivasse fra 30 secondi più spavento che conversione mentre invece essendo procrastinata c'è il tempo per riflettere e anche il tempo per decidere di cambiare il nostro amico dice la magnanimità del Signore nostro consideratela come salvezza e qui c'è una cosa interessante così così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo secondo la sapienza che gli è stata data voi leggete tutte le lettere paoline non c'è non c'è nessuna preoccupazione per la parusia imminente non c'è in una sola lettera c'è la seconda è tessalonicesi dove chi scrive dice ma qualcuno interpretandomi male pensa che la fine del mondo sia imminente non è così la fine del mondo è molto procrastinata riprendono l'idea di Gesù quando gli apostoli dicono quando avverrà questo solo il padre lo sa nessuno lo sa voi tenetevi pronti punto e basta la seconda lettera ai tessalonicesi è di Paolo all'epoca di Paolo non c'era questo problema questo problema come vi ho detto sorge alla fine del primo secolo lo scavalca e lo troviamo anche all'inizio del secondo secolo 105 110 è di Paolo la seconda lettera ai tessalonicesi capite che quando cominciate a scavare e siete coerenti bisogna avere dei grossi sospetti su quella lettera poi cominciate ad esaminare il vocabolario e vedete che il vocabolario della seconda lettera ai tessalonicesi non è vocabolario paolino poi cominciate a vedere le costruzioni grammaticali e sintattiche non sono paoline e allora cominciate a dire probabilmente la seconda lettera ai tessalonicesi non è di Paolo è di qualche suo lontano discepolo il quale cercando di imitare i concetti teologici di Paolo affronta problemi sorti nella comunità cristiana ma successivi all'epoca paolina se noi dovessimo fare un'introduzione a Paolo vi direi guardate la seconda dei tessalonicesi non è di Paolo la lettera degli Efesini non è di Paolo la lettera dei Colossesi non è di Paolo prima seconda Timotio e lettera Tito non sono di Paolo e qualcuno di voi arriva coi pomodori e me ritira no non sono di Paolo quelle lettere lì e poi le altre lettere che noi abbiamo di Paolo non sono state scritte da Paolo così perché la lettera ai Romani sono due lettere le due lettere ai Corinti sono quattro la lettera ai Filippesi sono tre lettere di Paolo ai Filippesi cucite insieme sì è divertente fare i biblisti dunque questo grosso problema della parusia imminente è un problema tardivo la prima lettera di Pietro non ha questo problema il che vuol dire che i destinatari non avevano questa ossessione mentre invece i destinatari della seconda lettera che vuol dire poco dopo questa ossessione ce l'avevano e sono gli stessi destinatari e allora l'autore interviene dentro a questo intervento c'è qualche cosa di simpatico continuiamo la lettura siamo alla linea 66 versetto 15 dunque la magnemità del Signore nostro consideratela come salvezza così vi è scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo secondo la sapienza che gli è stata data come quindi qui sta parlando di altro come in tutte le lettere nelle quali egli parla di queste cose Paolo parla del ritorno di Gesù ma non con il criterio dell'imminenza in esse lettere di Paolo le considera ormai come un corpus come una raccolta ora noi sappiamo che durante la vita di Paolo non esisteva la raccolta delle lettere di Paolo Paolo muore anche lui sotto la persecuzione neroniana fra il 64 e il 68 e in quel periodo la raccolta delle lettere di Paolo non c'è quando incomincia la raccolta noi abbiamo una piccola spia nella lettera ai Colossesi che non è di Paolo nella parte finale della lettera ai Colossesi l'autore scrive questa lettera dopo che l'avete letta la mandate ai laodicesi gli abitanti di Laodicea e vi fate dare da loro la lettera che io ho scritto a loro così vi scambiate le mie lettere noi abbiamo dunque questo scambio delle lettere di Paolo dopo la morte di Paolo perché prima le lettere erano scritte per un destinatario solo la comunità di Corinto punto chiuso non è per gli altri perché Corinto ha determinate problematiche e Paolo risponde a quelle problematiche problematiche che per esempio la comunità di Filippi non ha mai avuto e perciò Paolo scrive ai filippesi cose che a Corinto non avrebbe mai scritto quindi ognuno si teneva la sua lettera dopo la morte di Paolo iniziano questi scambi ci sono degli indizi per poter sospettare che a Efeso che era il quartier generale di Paolo verso gli anni 90 poco prima dunque della prima lettera di Pietro e della seconda si sia fatta la raccolta delle lettere di Paolo e della scuola paolina quindi lettere autentiche sue e quelle dei suoi discepoli e quindi verso il 90 abbiamo questa raccolta le 14 lettere di Paolo ma non sono tutte sue tra queste c'è anche la lettera agli ebrei che già Sant'Agostino diceva che non è una lettera non è scritta agli ebrei e non è di Paolo lo diceva già lui a maggior ragione lo possiamo dire noi la seconda lettera di Pietro dà per scontato che queste lettere siano già un corpus una raccolta perché da come parla lui le ha conosciute così come in tutte le lettere nelle quali gli parla di queste cose in esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere magari fosse vero alcuni sono tutti punti difficili da comprendere in Paolo leggere Paolo vuol dire sfruttare tutte le connessioni neuroniche che abbiamo nella capoccia perché Paolo è difficile poi quando lo capite dite ah che semplice dopo però in esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere non scandalizzatevi che gli ignoranti e gli incerti travisano al pari delle altre scritture per la loro propria rovina due problemi le lettere di Paolo fanno parte ormai dei testi dei testi ispirati perché fanno parte delle scritture rileggete bene in esse in esse vi sono alcuni punti difficili da comprendere che gli ignorati e gli incerti travisano al pari delle altre scritture quindi già alla fine del primo secolo il corpus paolino era considerato parte delle scritture per la loro propria rovina e qui il mondo delle suore dei monaci entra in fibrillazione quando dico guardate non è per fare propaganda ai biblistici mancherebbe ma la parola di Dio non è automaticamente salvifica la legge diventa salvifica per te scordatelo perché se tu leggi il testo biblico senza un minimo di preparazione ignoranti quel testo lì diventa per te apoleia rovina apoleia è un de verbale dal verbo apollimi che vuol dire perdere l'apoleia è la perdizione eterna quindi traduzione rovina e abbastanza poetica ma di per sé vuol dire perso per sempre leggere la scrittura da ignoranti provoca questo ma anche da incerti cioè il testo biblico è un testo di fede per l'amor di Dio è anche testo storico e anche testo sapienziale chiamiamolo teologico filosofico ma essenzialmente scritto per la fede e quindi se è scritto per la fede o tu lo leggi con la fede o altrimenti il prodotto che c'è in te diventa solo cultura se invece tu lo leggi come testo di fede ma la tua fede non collima con la fede biblica questo libro ti rovina interessante pericoloso adesso capite qual era il clima del concilio di Trento a metà del sedicesimo secolo quando i vescovi hanno dovuto affrontare il problema della Bibbia nei confronti di Lutero che diceva noi leggiamo la Bibbia e ognuno la interpreta come vuole perché ognuno possiede lo spirito santo mio amico Martino si era dimenticato di quanto scritto nella seconda lettera di Pietro capitolo primo versetto venti nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione è una di quelle cose strane che Lutero ha detto dimenticando che la scrittura stessa li proibiva di dire quella cosa capite perché per noi biblisti è sempre difficile dialogare con i fratelli protestanti e quindi camminiamo sempre sulle uova perché se tu cominci a dirgli il concetto di fede che a Lutero è sbagliato l'interpretazione privata già la scrittura dice che non è possibile i testi che voi avete buttato via dalla Bibbia sono testi ispirati perché l'originale ebraico c'è cosa viene fuori vengono fuori occhi neri perché ci si prende a cazzotti e quindi stai attento all'aggettivo all'avverbio alla virgola alla sfumatura al respiro io preferisco dialogare con gli ebrei tu sei di là io sono di qua abbiamo due sponde diverse vediamo se riusciamo a fare almeno un ponticello ma quando si premette dicendo abbiamo la stessa fede crediamo nello stesso signore wow allora loro sono non di là sono di qua siamo insieme ma siamo insieme un corno perché quando cominciamo a toccare per esempio la memoria dei defunti non ci siamo non ci siamo perché noi cattolici abbiamo i libri dei maccabei dove esplicitamente si parla della memoria dei defunti e la preghiera per loro ma loro hanno preso questo libro e hanno detto non è ispirato fuori discutito mi spiego ma il grosso problema appunto è conoscere quando tu conosci allora sai regolarti puoi dire sì puoi dire no ma devi conoscere se non conosci sono guai bene lettera di Giacomo no basta il caffè più sacrosanto della lettera di Giacomo sono le 10 e 26 ci vediamo le 11 meno un quarto grazie a tutti